Si farà davvero la caserma dei carabinieri a Porcari. Dall'arma è infatti arrivato il definitivo via libera alla realizzazione di una nuova caserma nella Piana di Lucca ed il comune di Porcari con un'apposita delibera ha potuto far partire l'iter per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera. La caserma sarà realizzata nell'edificio delle ex scuole elementari delle Suore Dorotee, abbandonato da anni, dove sono transitate tante generazioni di Porcaresi. Proprio in questa ottica il comune dopo una lunga trattativa aveva acquistato l'immobile nel 2018 per 300.000 euro. Adesso si parte con la progettazione che prevede 1.200 metri quadrati al coperto corredati da un piazzale di 1.000 metri quadrati. Il comune per finanziare il progetto dispone già di 100.000 euro arrivati tramite un bando della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.